Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta, Swamishila Prabhupada, Kijaya. Il grande saggio Sankhyayana era il più grande degli spiritualisti, e mentre descriveva le glorie del Signore alla luce dello Srimad Bhagavatam, accadde che Brihaspati e Parashara, il mio maestro spirituale, lo udissero. Sankhyayana da chi aveva ascoltato il messaggio dello Srimad Bhagavatam? Sanat Kumani Verso 9 Traduzione Come indicato precedentemente, il grande saggio Parashara su consiglio del grande saggio Pulastia mi trasmise il più importante dei Purana, lo Srimad Bhagavatam. Chi sta parlando qui? Chi sta parlando questo verso? Come indicato precedentemente, il grande saggio Parashara su consiglio del grande saggio Pulastia mi trasmise il più importante dei Purana, lo Srimad Bhagavatam. Ora, mio caro figlio, ti narrerò ciò che ho ascoltato, perché tu mi sei sempre perfettamente fedele. Ma i tre Yarishi, in risposta alle domande di Vidura, gli cita la stessa conoscenza che lui ha ricevuto dal suo maestro spirituale, Parashara Muni, il quale l'ha ricevuta da Sankhyayana Muni, il quale l'ha ricevuta da Sanat Kumara, il quale l'ha ricevuta da... Ancora Sankarshan, in persona. Ok, spiegazione. Il grande saggio Pulastia è il padre di tutte le razze demoniache. Un giorno, Parashara cominciò un sacrificio, durante il quale tutti i demoni avrebbero dovuto essere ridotti in cenere, poiché suo padre era stato ucciso e divorato da uno di loro. Il grande saggio Vasishtamuni arrivò sul luogo del sacrificio e pregò Parashara di rinunciare a questa azione omicida. Considerando la posizione di Vasishtam, che è rispettato dall'intera comunità dei saggi, Parashara non poteva rifiutare la sua richiesta e interruppe il sacrificio. Pulastia, il padre dei demoni, apprezzò il suo carattere braminico e gli diede la benedizione di diventare un grande predicatore dei Purana, che formano i supplementi dei Veda. Parashara, con la sua indulgenza braminica, aveva perdonato i demoni e Pulastia aveva grandemente apprezzato il suo gesto. Parashara avrebbe potuto distruggere tutti i demoni durante il suo sacrificio se l'avesse desiderato, ma pensò, i demoni sono fatti in modo da divorare gli esseri viventi, uomini e animali, ma perché questo dovrebbe condurmi a rinunciare alla mia clemenza, che mi qualifica come Brahmana? Parashara, in seguito, quando si mise a parlare dei Purana, questo grande predicatore parlò innanzitutto dello Srimad Bhagavat Purana, perché questo è il più importante di tutti i Purana. Ma i Traiamuni desiderò a sua volta trasmettere lo stesso Bhagavatam che aveva ricevuto da Parashara e Vidura, era qualificato ad ascoltarlo grazie alla sua fedeltà e alla sua capacità di obbedire alle istruzioni ricevute dai superiori. Lo Srimad Bhagavatam è narrato dunque da tempo immemorabile, dalla successione dei maestri spirituali, ancora prima dell'epoca di Vyasadeva. I cosiddetti storici affermano che i Purana risalgono solo qualche centinaio di anni fa, ma la verità è un'altra. I Purana esistono da tempo immemorabile, all'ilà di tutte le valutazioni storiche dei filosofi teorici. Rileggo i due versi. Cio che ho ascoltato, perché tu mi sei sempre perfettamente fedele. Oma Gyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yenatasmai Shri Gura Venamaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yenabhutale Vyona Monamaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadigora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Shri Prabhupada Ki Jai Due versi ricchi di spunti sui quali meditare Prima di tutto il verso numero 8 dice Paramahamsya Mukhyo Che Sankhaya Namuni era il principale, il più grande di tutti i Paramahamsa Gli spiritualisti grandi saggi sono definiti Paramahamsa, ovvero cigni trascendentali Perché sappiamo che i cigni hanno questa facoltà di riuscire a risucchiare il latte da un miscuglio di latte e acqua Un'enzima particolare nel loro becco che permette loro di prendere solo il latte e rigettare l'acqua E allo stesso modo uno spiritualista, un grande saggio è in grado di vivere in questo mondo materiale Che è un misto tra materia e spirito Vediamo che c'è questa combinazione tra materia e spirito, questa interdipendenza C'è la verità e c'è l'illusione E un Paramahamsa è colui che riesce a prendere solo lo spirito Colui che riesce solo a cogliere la verità in mezzo a questo mondo di grande illusione e confusione E questi Paramahamsa sono coloro che sono attratti a A discorrere di argomenti trascendentali relativi a Alla glorie del Signore Supremo, di Krishna Generalmente le persone in questo mondo Coloro che non sono Paramahamsa e quindi tutti praticamente Sono interessati a parlare di così tanti argomenti Hanno migliaia e migliaia di argomenti di cui parlare Shrutavya Dini Rajendra Nrinam Santi Sahasrashah Sahasrashah vuol dire migliaia di argomenti Se apriamo il giornale ci saranno così tanti argomenti diversi Se apriamo le riviste di moda, le riviste di calcio, le riviste di motociclismo Di Formula 1, di... non so, ci sono anche riviste di cani, di gatti Di tutti i tipi Hanno migliaia e migliaia di argomenti di cui parlare Quanti canali esistono alla televisione E... però... ciò che accomuna tutti i discorsi di cui sono interessati questi materialisti è Apashyatam Atmatatvam A staccare e riattaccare Bisogna controllare E... apashyatam atmatatvam Sono tutti argomenti che non riguardano l'atmatatva La verità dell'anima La verità dell'anima e dell'anima suprema E... griheshu grihamedinam E questo tipo di discorsi coinvolgono sempre di più l'anima all'interno della vita materiale E... la legano sempre di più alla casa, agli attaccamenti E... alle espansioni del corpo Mentre... Gli spiritualisti, i Paramahamsa, sono interessati soltanto a un argomento Che è... Krishna Che è la verità dell'anima E... chiaramente non è una cosa monotematica o monotona Parlare solo di Krishna Ma ci sono tantissime sfaccettature diverse Di cosa significa parlare dell'atmatatva E... Quindi chi è che sarà attratto allo Shimad Bhagavata? Soltanto le persone che hanno questa inclinazione a capire veramente la verità È detto in un bellissimo verso Shrimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsa Mekam Amalam Gyanam Param Gyate Che lo Shrimad Bhagavatam è Paramahamsa Samita È il libro fatto per le grandi anime I Paramahamsa E trasmette Gyanam Param Gyate La conoscenza più elevata E quindi è molto molto caro ai Vaishnava Ai devoti di Krishna E... Tatra Ghyana Viraga Bhakti Sahitam Naish Karemiam Aviskritam E trasmette la conoscenza della Bhakti autentica Della pura devozione che è Tatra Ghyana Viraga Bhakti Sahitam Che è arricchita dalla conoscenza e dalla rinuncia Come abbiamo già spiegato precedentemente La Bhakti genuina, la Bhakti autentica Trasmette, genera automaticamente nel cuore Un senso di conoscenza e di rinuncia, di distacco E quindi Naish Karmiam Aviskritam Ci permette di vincolarci dalle catene degli attaccamenti materiali Cosa succede quando noi ascoltiamo, studiamo e meditiamo Sullo Srimad Bhagavatam Bhaktia Vimucyen Nara Si genera la devozione nel nostro cuore Quindi è molto importante questa sequenza Yacherin Van Prima bisogna ascoltare E ascoltare in modo umile e sottomesso Su Patan Poi bisogna studiare, ristudiarsi ciò che abbiamo già ascoltato Perché ascoltare una volta non basta Abbiamo visto tutti che c'è una lezione Che dura mezz'ora E a metà giornata già ci siamo dimenticati Il 95% dell'argomento che trattava una lezione E poi quindi bisogna avere il tempo di Supatan Di studiare e di approfondire filosoficamente E viciarana parò E di mettere in pratica, di realizzare questa conoscenza E con questi tre passaggi Bhaktia Vimucyen Nara Si può generare nel cuore la Bhakti E l'essere umano Vimucyen Può ottenere la completa liberazione Dal ciclo di nascita e morti, dall'ignoranza Quindi il Bhagavatam è considerato la Paramahamsa Samhita Noi ci approcciamo a questo libro così elevato Nonostante la nostra provenienza molto umile e degradata E quindi dobbiamo avere un atteggiamento di grande venerazione E di grande umiltà nel leggere lo Srimad Bhagavatam Perché stiamo avendo a che fare con tutti i grandi anime Con tante grandi anime Leggiamo Sankhya Yana Muni Era il più elevato tra i saggi Parashara Muni Brihaspati Che è il guru di tutti gli esseri celesti E i quattro Kumara Così grandi anime Noi chi siamo Per poter parlare di loro Ma il nostro obiettivo deve essere quello di avvicinarci a loro E di seguire le loro orme Come dice il Bhagavatam Che Dall'inizio della creazione i grandi grandi saggi Come quelli che sono descritti in queste pagine dello Srimad Bhagavatam Adorano il Signore Supremo Che non può essere percepito nei nostri sensi materiali E attraverso questa adorazione raggiungono una piattaforma completamente pura Sattuam Vishuddham E Kalpante Yenutaniha Seguendo le loro orme Anche noi raggiungiamo la loro stessa piattaforma Proprio come quando vediamo Su Bagnasciuga Delle impronte dei piedi Vuol dire che C'è appena passato qualcuno E se noi seguiamo quelle orme Arriveremo nello stesso posto Che ha raggiunto la persona che ha lasciato quelle orme Così i grandi saggi, i Paramahamsa Vengono in questo mondo E trasmettono la conoscenza E lasciano le impronte Dei loro insegnamenti e del loro esempio A beneficio delle generazioni future E chiunque Riesca a riconoscere queste orme E a seguirle Raggiungerà la stessa dimensione Lo stesso stato di coscienza Che hanno raggiunto questi grandi saggi Quindi noi Stiamo cercando umilmente di seguire le orme Di queste grandi personalità E il verso di oggi Il verso numero 9 Ci descrive di come Il grande saggio Parasharamuni Ha trasmesso a Maitreya Lo Srimad Bhagavatam E Maitreya si appresta A riportare la stessa conoscenza A Vidura E possiamo analizzare Dei punti interessanti Per il nostro beneficio Il primo è che Parasharamuni Come ha ricevuto La conoscenza È spiegato nel Nel commento che Parasharamuni Era stato molto afflitto Quando suo padre Era stato ucciso Da un demone E allora Per vendicarsi Ha deciso di Fare un sacrificio Che avrebbe sterminato Tutta la razza Demoniaca Ma Pulastia Che era il padre Di tutti i demoni Colui che ha generato Tutti i demoni È andato da Parasharamuni No Vasishtamuni Che era un grande saggio È arrivato sul luogo Del sacrificio E ha detto A Parasharamuni Risparmia questo sacrificio Non serve Lascia stare la tua collera Lascia stare Il tuo Risentimento Nei confronti Dei demoni Perché Fare questo sacrificio Non porterà niente di buono Quindi Sii clemente E A queste parole Parasharamuni Si è trasformato E ha capito che Quest'azione Non gli avrebbe fatto del bene Gli avrebbe fatto perdere La sua Integrità spirituale E allora Decide di Interrompere questo sacrificio E di perdonare Chi ha ucciso Suo padre E Pulastia Che era il padre Che era il padre Della razza demoniaca Ed era molto impaurito Per questo sacrificio Che Parashara Si stava prestando A compiere È stato molto Molto Felice Di questo Cambiamento Da parte di Questa abilità A ricevere le benedizioni Di tutte le benedizioni Che vengono E uno zopo In particolare Dice Dice La bellezza di una persona E quindi Di materiali Automaticamente Automaticamente Sarà portato a Accumulare Rissentimento E malizia Nei confronti degli altri Desiderio di vendicarsi Mentre Quando noi ci liberiamo Dalla cama Che è la lussuria Possiamo anche lasciare Andare Croda La collera Non che Sia possibile Eliminare la collera Perché la collera In realtà È uno strumento Molto utile Talvolta Pensiamo A un genitore Se Qualche volta Non si deve arrabbiare Col figlio Perché Fa una sciocchezza Magari il figlio Sta per mettere le mani Dentro il fuoco Il genitore Chiaramente Si deve arrabbiare Per Mostrare al figlio Che Non deve fare Certe cose E quindi La collera È un sentimento Molto utile Può essere usata Anche Al servizio Di Krishna Ma Il devoto Lo spiritualista Lascia Questo Senso Di Risentimento Quando qualcuno Offende lui E chiaramente Lo utilizza Quando qualcuno Offende Chi È caro A Krishna O Krishna E quindi In realtà Soltanto Un devoto Una persona Che è connessa A Krishna Può veramente Sviluppare La Toleranza Il perdono E il perdono È anche Uno dei sintomi Dello stadio Di Bava Che è uno stadio Molto elevato Quindi Se ancora Non siamo a quel livello Non ci dobbiamo preoccupare Perché È l'ottavo stadio Prima dell'amore Per Dio Dice Che il primo sintomo Di una persona Che ha raggiunto Le emozioni spirituali D'amore Per Krishna Cioè Chantir Il perdono Quindi allo stesso tempo Dobbiamo essere Consapevoli Che arrivare A quel livello Richiede molto tempo Ma Che è Essenziale Se vogliamo Qualificarci Come Ricettacoli Della Misericordia Dei Vaishnava E Quando Maitreya Ha ricevuto Questa conoscenza A sua volta Quando Maitreya Ha ricevuto Questa conoscenza Da Parasharamuni A sua volta È stato interrogato Da Vidura E Maitreya Si appresta A rispondere a Vidura Con molta gioia Perché Non Semplicemente Lo fa Con chiunque Ma Lo fa Perché Che vede delle qualità In Vidura Infatti Le elenca Gli dice Shraddhalave Nittiam Anuvrataya Shraddhalave Vuol dire Sei fedele Sei leale Nittiam E lo sei sempre Non lo sei Quando ti fa comodo Non lo sei Per un po' di tempo E poi decidi Di Essere fedele A qualcun altro E Anuvrataya Anuvrata Vuol dire Discepolo Ma vuol dire Qualcuno Che è in grado Di seguire Un voto Vrata È un voto Quando noi Diamo la nostra parola Stiamo facendo Un voto Al momento Dell'iniziazione Facciamo Un voto E come lo facciamo? Dicendo A voce Io prometto Di seguire I principi regolatori Di cantare 16 giri E Semplicemente La parola Di fronte All'assemblea Dei Vaishnava Alla divinità Al fuoco sacro Costituisce Un voto E Il discepolo È chiamato Anuvrataya Colui che è in grado Di seguire il voto Se noi non siamo in grado Di seguire I voti Che abbiamo preso Vuol dire Che non siamo Discepoli Qualificati Se lo facciamo Per un po' E poi smettiamo Vuol dire Che non siamo Nittiam Non siamo costanti E quindi Non siamo qualificati Se perdiamo la fede Ci sono stati Tanti discepoli Di Shila Prabhupada Che lo hanno lasciato Non perché Shila Prabhupada Fosse Un maestro spirituale Non qualificato Ma perché Loro non erano Discepoli qualificati Quindi hanno Visto Nel loro maestro spirituale Qualcosa che non andava Perché in realtà È Maya Che Ci illude E ci fa vedere Negli altri Quello che noi Vogliamo vedere Invece Quando noi Siamo sinceri E chiediamo A Krishna Di farci vedere Le cose Come sono Veramente Krishna Ci fa vedere La verità Così com'è Ci fa vedere Che in realtà Siamo noi Quelli Illusi E quelli Che si trovano In una posizione Di pericolo E di Grande Fragilità E in questo modo Possiamo avere La giusta attitudine Per avvicinare I sadhu Per avvicinare Il maestro spirituale E quando Per amore O per forza Arriviamo a queste qualità Quindi O perché Siamo molto Già Qualificati O perché Krishna ce lo fa capire Attraverso Le bastonate Della natura Per fare sforzi E' felice Da che servizio Da che servizio incredibile Ha fatto Mamma mia E' proprio un'anima Nobile Quel devoto Quella devota E veramente Senza La sua Il suo contributo Cosa faremmo Allora 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 Quando noi Sentiamo Che qualcuno Sta parlando Bene di noi Naturalmente Ci fermiamo E siamo Molto Gratificati E Allo stesso modo Krishna E' nel cuore Di ognuno E sente Che tutti In questo mondo Sono interessati A tutt'altro Che Ascoltare di lui E parlare di lui Ma quando vede Che qualcuno E' veramente Interessato A ristabilire La sua relazione Con il Signore Supremo Allora lì Si ferma E' molto compiaciuto Quando questo scambio Viene Tra Un oratore Qualificato E un ascoltatore Qualificato E allora Questo Dialogo Genera La potenza Spirituale Perché E' un dialogo Che soddisfa Krishna E Ci sono Dei dialoghi Che hanno cambiato Il corso Della storia Pensiamo Alla Bhagavad Gita Un dialogo Un'ora Neanche Però Viene studiata E Illumina Da tempo immemorabile Migliardi Biliardi Triliardi Di Anime Condizionate Perché Oratore Più qualificato Di Krishna Non c'è E ascoltatore Più qualificato Di Arjuna Neanche Quindi noi Dovremmo Avere questa Consapevolezza Che se vogliamo Veramente Raggiungere Il successo Nel Bhakti Yoga Dobbiamo Qualificarci E Seguire le orme Dei grandi Paramahamsa Che sono Descritti In questo testo E la lezione Di oggi Ci insegna A imparare A perdonare Le offese Minori Come anche Una delle qualità Divine Elencate Nella Bhagavad Gita Il sedicesimo capitolo Imparare A tollerare Le offese Minori Dice Scella Prabhupada Cosa vuol dire Le offese Minori Esatto Quelle che riguardano Noi Il nostro Ego Quando qualcuno Ci corregge Ma Non le offese Invece Importanti Quelle che Qualcuno fa Nei confronti Di Un altro Vaishnava Del nostro Maestro Spirituale Lì Dovremmo essere Come delle Tigri E Trasformarci Da Agnelli A Tigri E In questo Modo Oggi Possiamo meditare Sul Toleranza Sulla Clemenza E Sul Perdono Avete qualche Commento Qualche domanda Grazie a tutti Grazie a tutti intellettualmente sappiamo che è un qualcosa di superfluo ma come non esserne feriti lì bisogna bisogna liberarsi dal falso ego non c'è un'altra soluzione non ti posso dare la pillola magica che ti permetterà di non essere offesa quando qualcuno ti dirà qualcosa in malumolo beh prima di tutto la consapevolezza che è il nostro ego e quindi già questo quando ci succede ci permette di la consapevolezza che se siamo feriti è perché siamo nel piano mentale, nel piano materiale perché Krishna dice nella Bhagavad Gita verso 7 del sesto capitolo chi ha conquistato la mente raggiunge la vera pace chi non ha conquistato la mente non può essere pacifico Paramatma Samahita e solo chi ha conquistato la mente può collegarsi e connettersi al Paramatma Cosa succede quando siamo connessi con il Paramatma? Siamo equanimi con il caldo e con il freddo con le gioie e con i dolori e nell'elogio di fronte all'elogio e al rimprovero finché non siamo connessi con il Paramatma la nostra coscienza è assorta nel piano materiale che è costituito di dualità e quindi siamo euforici quando veniamo glorificati e depressi quando veniamo rimproverati quando noi ci connettiamo col Paramatma siamo sul piano assoluto e quindi siamo equanimi di fronte all'elogio e al rimprovero e quindi quando ci accorgiamo di essere feriti e di essere colpiti da qualcosa che ci viene detto e qualche atteggiamento l'unica cosa che possiamo fare veramente è connetterci con Krishna e come si fa? Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare quando andiamo a distribuire i libri è il modo migliore per mettere in pratica questa questa conoscenza perché incontri una persona che ti offende senza neanche averti mai visto prima e ti comincia a dire cento offese in un minuto e poi la persona dopo ti glorifica ti accoglie ti chiede cosa posso fare per te e allora sei messa in costante così contrasto con queste dualità ma avviene comunque in tutti gli ambiti della nostra vita e il segreto è connettersi con Krishna Gianluca avevi no? da facebook c'era esatto la tolleranza dice Sheila Prabhupada in un commento della Bhagavad Gita si può giudicare l'avanzamento e la realizzazione spirituale di qualcuno dalla sua capacità di tollerare le situazioni avverse e questo mondo materiale è il luogo dove possiamo veramente sperimentare questa qualità perché tutto in realtà noi vorremmo che tutto andasse secondo i nostri piani ma tutto va esattamente al contrario di come noi ci aspettiamo proprio perché è governato dalla natura materiale allo scopo di insegnarci che non siamo noi i beneficiari i goditori non siamo noi i proprietari e non siamo noi i benefattori di nessuno noi possiamo solo abbandonarci a Krishna e in questo abbandono risiede la liberazione da tutte le sofferenze c'era un brahmana avanti pura che è descritto nell'undicesimo canto dello Shimal Bhagavatam che ha passato tutta la sua vita come un mascalzone numero uno che ne combinava di tutti i colori rubava trattava male la moglie i figli era proprio cattivo a un certo punto ha perso tutto era molto ricco all'inizio poi ha sperperato tutte le sue ricchezze e ha perso tutto è diventato povero e allora ha capito che aveva sbagliato aveva avuto un atteggiamento sbagliato e lo aveva portato a questa situazione quindi ha deciso di spogliarsi di tutti i bendi di liberarsi di tutti gli attaccamenti e di dedicarsi completamente alla realizzazione spirituale è diventato una vaduta un saggio errante e le persone quando lo vedevano dicevano ecco adesso che ha perso tutto è diventato uno spiritualista perché non aveva più modo di avere successo nel mondo allora in realtà lui no lo ha fatto per vera conoscenza ma gli altri lo giudicavano e pensavano che lo facesse solo per guadagnarsi da vivere facendo un po' di elemosina e allora quando lo vedevano gli sputavano lo prendevano a calci insultavano e lui non si arrabbiava e pensava in realtà è quello che mi merito è quello che mi merito io quanto ho fatto soffrire gli altri e quindi questo è il minimo che mi merito e allora dice un verso molto bello io sempre pensavo che la causa della mia felicità e delle mie sofferenze fossero gli altri o deva tatma o gli esseri celesti le entità superiori o il mio corpo o le stelle i pianeti gli astri il mio karma il tempo no non è niente di tutto questo ma mana param karanam amananti l'unica causa di tutte queste gioie queste sofferenze materiali mana è la mia stessa mente condizionata e quindi questa mente ci spinge samsara chakram parivarta yedya a continuare questo ciclo perpetuo del samsara di nascite e morti quindi l'unico modo per uscire dal ciclo del samsara è cambiare mente e smettere di incolpare gli altri di incolpare le altre persone di incolpare il nostro karma di incolpare il tempo di incolpare dio ma capire che il vero motivo del nostro soffrire in questo mondo è la nostra stessa mente condizionata e a questo scopo noi leggiamo lo Srimad Bhagavatam cantiamo Hare Krishna cercando di trasformare la nostra mente e di abbandonarci a Krishna ok grazie a tutti per l'attenzione Gran Taraj Srimad Bhagavatam Ki Jai